mamma mia mamma mia che giocatori ragazzi ritornano le mitiche food draft di christian anche oggi in premio 50 euro se supererà la challenge lasciate un like se anche voi amate le food drive e ne volete altre sul nostro canale 500 like per continuare la serie delle food draft scegliamo subito il modulo dobbiamo essere flash super flash 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 allora come modulo scegli il 4 1 2 1 2 un modulo molto difficile ragazzi messi tiago neymar neymar contro messi due preferiti da christian chi sceglierà poi devo manè e candreva sono tutti fortissimi crì la challenge di questa food drive qual è ti do la possibilità di scegliere tu che tipo di challenge fare potresti fare cento per cento brasile cento per cento argentina cento per cento campionato francese campionato francese quindi dovrai scegliere solo giocatori che giocano in francia ok 50 euro se riesci a mettere come titolari almeno 11 giocatori che giocano in francia nella league one a questo punto tra messi e neymar questo è un dilemma messi o neymar e voi chi scegliereste scrivetelo nei commenti è difficilissimo scegliere messi è stato sei volte pallone d'oro neymar non lo so ma non ne ha mai vinti così tanti di palloni d'oro sì vabbè però quest'anno non è che no l'anno scorso non è che ho fatto così tanto manco neymar però neymar è molto più veloce ok vada con neymar non posso non commetterlo infatti non hai neanche una s in rosa imprese una rosa difficilissima allora abbiamo che in tour e la casetta di natale e jole giochelle e chi che gioca in francia una di loro deve girare un attimo le carte perché io non ne conosco tutte uno di loro due amore di natale di natale di natale tour e o la casetta la casetta a passare pet andiamo avanti mai accoglio co sono fortissimo baio l'unico che puoi prendere baio lo metti in attacco e ne abbiamo già tre che giocano in francia un parchi su un gioco in inghilterra gov francia puoi prendere gov oppure gli altri mamma mia guarda hai anche debì pelè come scelta cacca è un forte giocatore una bella icona ma non lo possiamo prendere cambiamo challenge ha visto che ho preso neymar solo brasiliano non può non puoi più a questo punto non è più possibile abbe di pelè o gov e più forte a debì pelè barella giorgigno nessuno che gioca in francia quindi scegline uno a caso giorgigno tra ore è l'unico francese ma fammi vedere gli altri rinuncia zaccaria marquez l'icona lam e casemiro che comunque è una carta oro normale che hai preso lui vittina che gioca nel paris saint germain leister real madrid civile juventus troppo forte sceglie carvajal nessuno che gioca in francia in questo spacchettamento allora scegliamo uno che gioca in spagna un tedesco rudiger romagnoli alderberra biol tarkoschi pepe mi sa che anche qua non ci sono nessuno della francia andiamo avanti allora andiamo avanti anche quando ah sì ismaili ismaili terzino sinistro francese no brasiliano che gioca in mania 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 ma ero la che però gioca in inghilterra a vabbè cerny campos donna ruma gioca in francia lo puoi prendere lo puoi prendere nessuno perché juve borussia d'albu lazio roma everton everton gioca nell'inghilterra juventus lazio roma in serie a in italia poi se in germania ma sono troppo forte prenderà lui carl scops cam riccardo carvalho danfris nuniu mendes un altro del paris saint germain stai completando la squadra del paris saint germain mettiamo qua perfetto ah ecco il monaco non sono troppo forte c'è anche belaili era giocava in francia vabbè lui ha scelto il giocatore del monaco è monaco e monaco monaco e sempre monaco allora cross nessuno che gioca in francia ma quanto capito la tua nazione di riserva e la spagna si c'era di maria una volta giocava in francia una volta però se andiamo su fifa 22 ho un'idea andiamo su fifa 22 scarichiamo i dati di di maria mi trasferiamo su fifa 22 e convertiamo i dati di fifa 22 di maria in fifa 23 così gioca nel psg e quindi posso prenderlo io prenderei ben bene abbiamo ecco l'amerto cinque squadre andati in turchia in turchi andato merpes ma che ci fa in turchia allora andiamo c'è qualche francese no nessuno peccato che bale bale ha lasciato il madrid anche 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 se c'è un piccolo dettaglio che qua mi sa che la e sport ha sbagliato perché questa squadra l'afc non ha mai questa maglia che questa maglia è del real madrid e quindi la e sport che sbaglia giocatori ha preso dei della squadra del madrid e ha praticamente fatto copia in colla su un'altra squadra con la stessa maglia del madrid quindi io le dico cambia maglia perché se qui arriva un tifoso della l'afc si arrabbia subito perché quella non è una maglia dell'afc è la maglia del madrid dopo questo prendiamo lui va bene dai andiamo avanti allora stiamo cercando giocatori che giocano in francia e non escono non escono non escono gira un po le carte lui lui ma sono troppo forte ah c'è anche l'ena che gioca in francia oh ci sono due che giocano in francia abbastanza scatti abbiamo cazzi e cabot prende cabot a questo punto li hai 11 titolari che giocano nel campionato francese vediamo gira tutte le carte riesce a giudicarti questo premio francese 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 vinci 50 euro per aver creato una squadra del campionato francese su food draft cosa comprerai con questi 50 euro cristian caramelle e anche la frutta però tanta frutta e tante caramelle per il prossimo a lui e per natale anzi no non compro più le caramelle caramelle fanno male semmai me le compro però le tengo in cantina dove nascondono anche i miei no 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 questo forse regia taglia tutto a parte gli scherzi non comprate le caramelle cioè comprate però non ne comprate tante non ne mangiate ogni giorno perché potrebbero venirmi le carie ovvero le carie cosa sono ora studieremo un po di educazione circa le carie sono quei puntini neri che si formano sui denti se noi non tiriamo via con lo spazzolino piano piano si allarga e ci distrugge tutto il dente piano piano notte notte giorno giorno 365 quindi se non volete avere le carie pagare il dentista 200 euro 400 euro 1000 euro non mangiate troppe caramelle mangiate molta frutta e vegetale e non mangiate troppo zucchero sale perché fanno male entrambi semmai non mangiate no scherzo scherzo perché vabbè però mangiate soprattutto frutta e vegetale che quelli non ne zucchero e ne sale e soprattutto non fate come i miei compagni che mettono prendono le fragole e ci mettono sopra il zucchero stramare non fate arrivederci